buon pomeriggio oggi è venerdì 21 luglio e siamo in piena estate ma i digital talk dell'associazione un export manager non si fermano mai vi do il benvenuto a nome dei relatori della squadra tecnica che partecipa oggi a questo digital talk io sono saverio aprile e sono un socio dell'associazione nonché docente della scuola di formazione di un export manager la tecnica è formata da giovanni pecorari che cura il palinsesto mentre che oggi ha avuto un problema e sostituisco anche il collega marco piva che segretario della situazione quindi spero che si possa praticamente possa fare il compito di sostituzione al massimo e abbiamo anche claudio massimo onorato che grazie a lui poi tutto il video che andremo a sviluppare sarà praticamente sul canale youtube che vi dino a praticamente a crescere oggi abbiamo due relatori conosciuti dalla sostituzione e abbiamo un tema veramente importante e non solo meteorologicamente ma anche dal punto di vista intellettuale è un tema molto caldo oggi parleremo del binomio prodotto e comunicazione nello sviluppo internazionale d'impresa quindi ascolteremo come seguire i vari passaggi per arrivare ad un successo nei vari mercati o comunque crescere nei vari mercati e le persone i colleghi gli amici che ci aiuteranno in questo percorso sono in pratica due cose di un export manager il primo a parlare sarà michael bezzoli che è un co-founder di sem plus che avrà un focus su l'importanza della differenziazione per entrare in nuovo mercato mentre subito dopo eh sarà lucilla rizzini eh che founder e director e operation of lcubic che avrà un focus sui vari cluster culturali e loro impatto sulla comunicazione in internazionale quindi sostanzialmente possiamo riassumere che il tema di oggi sono due grandi temi il vantaggio competitivo la comunicazione in interculturale quindi michael a te la parola dicendoci come dobbiamo differenziare soprattutto credo e spero che ci spiegherai perché dobbiamo differenziarci dopo il tuo intervento parlerà quindi lucilla per poi fare un dibattito tutti quanti insieme a te la parola nicol grazie grazie saverio e buonasera buonasera a tutti intanto che condivido le condivido lo schermo in modo da vedere le slide di oggi un paio di battute dato che giustamente ricordate sempre l'importanza di fare dei collegamenti al collega che segue come intervento eccetera e dato che poi queste queste registrazioni finiscono su youtube mi piacerebbe fare anche un invito a seguire in diretta questi momenti questi eventi anche perché le perle di saggezza migliori sono quelle che emergono nei primi minuti prima che parta la registrazione quindi chi ci guarderà sul canale youtube si perderà tutto questo e io raccomando che dalle prossime volte invece siate tutti in presenza una seconda battuta così per così rompo il ghiaccio mi scaldo è solo per questo è che vorrei fare una petizione io vorrei sempre saverio e claudio massimo a dirigere questi momenti perché c'è una simpatia una preparazione scherzo sono simpatici anche marco e giovanni ovviamente ma fatte queste battute direi che è il momento di addentrarci nell'argomento del giorno il titolo del nostro evento è come diceva benissimo saverio i due pilastri prodotto e comunicazione nello sviluppo internazionale delle imprese che andrò ad osservare da un punto di vista che poi mi piace che condividerò con tutti voi e mi piacerà poi ovviamente sentire il punto di vista di tutti i partecipanti e divido insieme con la collega lucilla che che mi seguirà con il prossimo intervento vado e comincio con una con una frase che evidentemente è un'ovvietà ma che mi piace mi piace sempre citare cioè in assenza di un prodotto non potresti evidentemente vendere all'estero perché cosa andresti a vendere prodotto servizio ovviamente così come in mancanza di adeguata comunicazione avresti grandi difficoltà a raggiungere il mercato stesso ecco perché questi sono due grandi pilastri quelli che io personalmente reputo i due di tre pilastri fondamentali per fare estero e quindi internazionalizzazione il terzo pilastro sono le persone oggi non andiamo a parlare di questo argomento ma è di fatto le persone sono l'essenza di questa associazione quindi è un tema che di fatto viene trattato tutte le settimane con i con i vari talk andando al dunque e trattando le due le due variabili diciamo prodotto e comunicazione personalmente mi piace andare a costruire questa matrice quando vado a confrontarmi con le aziende cioè mi piace cercare di posizionare l'azienda all'interno di questo di questo grafico a seguito di un'attenta riflessione e valutazione su quello che è il prodotto e quello che è la strategia di comunicazione dell'azienda vedete quattro quadranti che descrivo velocemente in basso a destra parliamo di continuità rischio sono quelle aziende che io definisco le aziende che vendono fumo cioè quelle aziende che come vedete siamo bassi dal punto di vista prodotto quindi o hanno un prodotto mediocre o praticamente non ce l'hanno nemmeno ma comunicano così bene che riescono a conseguire dei risultati riescono ad attrarre un potenziale cliente diciamo che secondo me ci riescono nel breve termine poi and a lungo andare nel medio termine vengono tra virgolette smascherati e quindi avranno una difficoltà a continuare sempre che non vadano invece ad affinare quello che è la loro offerta in basso a sinistra io lo definisco business model da rivedere sono quelle realtà quelle strutture che invece hanno delle lacune evidentemente sia dal punto di vista dell'offerta che dal punto di vista della comunicazione mi viene un esempio mentre mentre racconto di questa tipologia di aziende qualche anno fa incontrai un'azienda che opera nel settore dell'arredamento loro fanno mobili da seconde stanze vengono definite quelli che possono essere dei dei piccoli mobili dei delle scarpiere prodotti di fascia bassa prodotti low cost il problema che loro vedevano da un po di tempo questa parte erodere quote di mercato nel mercato italia perché perché evidentemente subivano la concorrenza anche di produttori che venivano da fuori italia probabilmente anche da fuori del mercato europeo e quindi si erano rivolti a me e alla realtà in cui lavoravo dicendo no io perdo quote di mercato in italia aiutami a recuperarle sui mercati esteri l'analisi che 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 ne è conseguita questo primo incontro di fatto ha fotografato una situazione a rischio anche sui mercati esteri perché tu nell'andata da a proporre la tua offerta proporre i tuoi prodotti su altri mercati ti scontrerai con una concorrenza tanto locale quanto la stessa concorrenza internazionale che probabilmente ti stai trovando in italia quindi lì ci trovavamo veramente in una situazione in cui il prodotto aveva qualcosa che non andava evidentemente ma anche il modo poi di comunicare e questa è la situazione secondo me più estrema dove c'è da mettere mano proprio a rivedere quello che è l'offerta dell'azienda stessa io qui a quel tempo alzai le mani non non sono un esperto di innovazione di prodotto piuttosto che di processo e quindi avevo coinvolto un professionista che invece ha aiutato l'azienda in questa direzione lì ragionamento era sul design sui materiali ovviamente non sarebbero rimasti low cost ma avrebbero alzato un pochino il livello ma per rendersi un pochino più interessanti al mercato in alto abbiamo due situazioni interessanti una secondo me è quella più interessante per chi fa il nostro lavoro che è il quadrante in alto a sinistra dove si parla di che ho definito opportunità di crescita perché sono quelle aziende che un prodotto ce l'hanno e se ci pensate in italia c'è pieno di eccellenze in tantissimi settori quello che a volte manca è la capacità di comunicare al meglio ok le nostre eccellenze e qui secondo me entriamo in gioco noi entra in gioco quello che è il nostro lavoro quindi è la situazione più comune forse in che ci troviamo a gestire quotidianamente in alto a destra quelli che ho definito leader sono quelle aziende che non so li descrivo così quando entri resti affascinato e pensi ma cosa faccio qua che cosa posso insegnare loro probabilmente hai solo da imparare ecco questa queste sono le aziende ed è la posizione a cui secondo me tutti dovrebbero tutti dovremmo ambire detto questo adesso qua scorro queste aziende perché era la descrizione che vi ho fatto poi a voce dei vari quattro quadranti ovviamente io lascio l'intervento per quanto riguarda la comunicazione a lucilla che si soffermerà da un punto di vista particolare perché parlerà poi di comunicazione interculturale per quanto riguarda il prodotto invece io vorrei soffermarmi sul tema della differenziazione ovviamente le due variabili comunicazione prodotto possono essere approfondite osservate e valutate da diversi punti di vista oggi lucilla porta il suo punto di vista la sua esperienza e a mia volta cercherò di portare un punto di vista legato appunto al concetto di differenziazione anche qui porto un po' una fresettina una domanda abbastanza scontata se vogliamo ma rende l'idea secondo me cioè quando io entro in un nuovo mercato a tutti gli effetti a meno che stiamo parlando di un marchio comunque noto perché è così grande ma a tutti gli effetti se io sono una piccola media azienda e in quel mercato non ci sono mai stato è altamente probabile che io sia un perfetto sconosciuto per cui la domanda che io rivolgo ai miei clienti quando inizio un progetto è ma per quale ragione il potenziale cliente dovrebbe lasciare l'attuale fornitore perché se è un'azienda che è già sul mercato da qualche anno evidentemente un fornitore già ce l'avrà per scegliere me ecco che è intorno a questo abbiamo modo di vedere su cui dobbiamo ragionare come facciamo a convincerlo che sono il più bello il più bravo e quindi devi scegliere me e su questo secondo me le aziende italiane hanno ancora tanta strada da fare il concetto di vantaggio competitivo quindi il termine che ha citato correttamente anche prima saverio nasce da michael porter non sono qui a fare una lezione teorica e quindi lo accenno lo cito brevemente perché secondo me è giusto partire da qua michael porter quando parla di vantaggio competitivo divide essenzialmente le strategie di differenziazione dalla strategia di leadership di costo a mio modo di vedere tendenzialmente non vuole essere la regola valida al cento per cento ma tendenzialmente in un paese come l'italia dove le materie prime sono scarse il costo dell'energia è elevato il costo della mano d'opera è elevata probabilmente più che di leadership di costo dobbiamo pensare a differenziare ovviamente questo è il mio punto di vista sarò ben contento di ascoltare poi i commenti dei colleghi quindi un altro invece esperto più che collega direi esperto che tratta il tema della differenziazione mi piace citarlo è alexander hostelwalder con il suo business model canvas e un altro libro che ha scritto che è value proposition design ora non state a rovinarvi la vista queste sono proprio due screenshot tratti dai due libri molto noti ma che aiutano a capire come alexander hostelwalder vada a rappresentare l'azienda con il business model canvas concentrandosi in maniera importante sul tema di chi è il mio cliente quindi segmenti di clientela che troviamo nella parte destra e intorno al prodotto o meglio lui parla proprio di value proposition quindi è quegli elementi distintivi utili a soddisfare i bisogni del cliente quindi questo professionista va a spiegare ad aiutare diversi imprenditori a trovare la propria value proposition anche studiando le buyer personas e i loro bisogni i loro problemi andando quindi a identificare delle soluzioni che possono rispondere a questa esigenza come dicevo non voglio però parlare di teorie quindi nella parte conclusiva del mio intervento vado a rappresentare il concetto di differenziazione attraverso dei concetti delle aree che io quotidianamente valuto e porto all'interno delle aziende quindi mi fa piacere condividerle con voi non perché credo che siano la bibbia anzi assolutamente ma perché mi farà piacere poi sentire l'opinione di tutti i colleghi e magari completarlo anche con visioni o aree differenti su cui magari non mi sono soffermato cosa intendo con questo concetto intendo questo intanto io parlo di soluzione di solito non parlo di differenziazione del prodotto per il semplice motivo che a mio modo di vedere noi siamo valutati dal potenziale cliente fin dal primo contatto quindi anche ben prima dell'aver conseguito una vendita quindi nella fase qualcuno chiama di prevendita senz'altro anche nel momento della trattativa e poi della vendita ma anche ben oltre anche nella fase del post vendita e quindi se noi vogliamo differenziarci forse dovremmo ragionare sulla terminologia di soluzione o comunque di prodotto in una visione un pochino più ampia le aree su cui mi soffermo solitamente sono tre prodotto tempi e condizioni adesso molto molto brevemente proprio per flash vado a spiegarle con prodotto come già detto poco fa mi riferisco a una concezione un'accezione ampia della definizione di prodotto perché perché non ragiono solo sul prodotto servizio core che assolutamente è una variabile da considerare quando voglio andare a rappresentare o riflettere su quali elementi di differenziazione posso portare sul mercato ma vado a riflettere anche su un altro paio di elementi che sono i cosiddetti servizi differenzianti o qualificanti li chiama qualcuno quindi quel plus che a contorno posso portare che spesso fanno la differenza e giustificano magari il premium price che io ho in confronto ai principali concorrenti e perché no anche il tema del packaging che può andare a distinguersi dovrebbe magari riflettere quello che è l'usanza o le esigenze del mercato locale questo forse anche un collegamento con l'intervento che ci sarà tra poco da parte di lucilla e su questo aspetto vi porto solo un piccolo esempio legato al tema del packaging qualche anno fa ho lavorato fatto di fatto un'analisi di mercato una ricerca di mercato per un produttore italiano di cioccolato non faccio nomi questo produttore aveva tuttora in gamma una crema spalmabile non è non è nutella non è ferrero ovviamente e ci chiedeva di andare a fare un'analisi di mercato del mercato tedesco per andare a vedere come posizionare e se c'era effettivamente lo spazio per andare a vendere questa crema spalmabile sul mercato prodotto di di alta qualità e lo si evinceva dall'elevata percentuale di nocciola all'interno del prodotto superiore alla percentuale che ad esempio nutella alla assenza di grassi diversi da quelli contenuti nella nocciola e contenuti dal caccao basta non devo fare pubblicità quindi mi limito a questi elementi è quello che è emerso dalla nostra analisi è che il packaging era sbagliato perché il packaging è un vasettino di plastica nemmeno tanto bello da vedere e quindi i buyer con cui parlavamo i distributori i punti vendita con cui abbiamo dialogato dicevano questo è un prodotto da discount nonostante la qualità fosse alta e il prezzo del prodotto è tendenzialmente più alto ad esempio di di nutella e quindi la nostra conclusione di questa analisi era suggeriamo caldamente di andare a rivedere il packaging almeno quantomeno per questo mercato probabilmente anche per altri mercati la risposta lì fu negativa perché l'azienda aveva fatto un investimento molto importante a fine linea per queste per le macchine che andavano a a imbottigliare come si dice il feeling del prodotto e quindi non hanno seguito il suggerimento oggi non l'ho più seguito quindi non so che genere di risultati possono aver conseguito ma su quel mercato ma il feedback del mercato era stato molto chiaro su questo quindi anche il packaging a mio modo di vedere può essere un elemento differenziante andando sul secondo concetto l'avevo definito tempi qui lo completo chiamandolo anche che atteggiamento nei confronti della controparte perché mi è capitato di vedere manager o aziende che si ponevano a mio modo di vedere nel modo sbagliato nei confronti delle controparti estere con un approccio quasi di supponenza del sono bravo solo io eccetera certe volte anche attorno a questo bisogna riflettere e anche qui secondo me c'è un valido collegamento con l'intervento che terrà poi tra poco lucilla ma anche solo pensando i tempi ecco che qua possiamo fare la differenza se siamo bravi se siamo tempestivi cioè come dicevo prima quando parlavo di soluzione noi siamo valutati fin dal primo contatto quindi anche una banale richiesta di di quesiti tecnici ma anche magari quesiti molto semplici se io ci metto troppo tempo a rispondere la valutazione che la controparte estera fa nei miei confronti sarà negativa e quindi sarà si farà un'idea probabilmente sbagliata di me ma sarà un pochino prevenuto nei miei confronti sarà difficile poi andare a fargli cambiare questa idea senz'altro questo elemento io lo ritrovo spesso sui tempi di redazione dei preventivi ora è chiaro che ci sono dei settori dove è necessario fare una progettazione che richiede tanto tempo ma nella maggior parte dei casi se agissimo in modo efficiente potremmo essere tempestivi nella risposta e non solo per prodotti standard a catalogo io vedo che quando ho clienti che sono bravi veloci nel giro di un giorno due giorni forniscono preventivo fanno una bellissima impressione alla controparte e spesso questo è uno dei motivi o degli elementi differenzianti che ci fanno poi prendere la commessa all'opposto quando dobbiamo scoprire per un mese due mesi guarda caso l'opportunità è quasi sempre ersa non so cosa ne pensano i colleghi ma sarebbe bello poi sentire la loro opinione su questo aspetto quindi anche tempi di realizzazione tempi di consegna che sono perfettamente consapevole spesso siamo legati anche all'approvvigionamento quindi di materie prima comunque lavorazioni che magari dei partner terzi vanno a fare però c'è sempre una componente di questa tempistica che è gestita da noi e quindi dovremmo fare del nostro meglio per far sì che i tempi si riducano l'ultima variabile sono le condizioni anche qui le ho sintetizzate come modalità di pagamento e dilazioni pensate alla classico approccio dell'azienda soprattutto quelle aziende che magari hanno ridotto esperienza internazionale che per tutelarsi chiedono solo ed esclusivamente il pagamento anticipato evidentemente questo li tutela ma evidentemente questo è anche un elemento per cui un motivo per cui spesso si perdano opportunità spesso il potenziale cliente va a scegliere l'offerta di qualcun altro quindi ragionando su cosa offrire ad esempio qua parlavo di dilazioni ovviamente tutelandosi nessuno sta dicendo che bisogna rischiare perché siamo imprenditori dobbiamo rischiare è possibile tutelarsi ci sono gli strumenti per farlo potrebbe essere utile andare a offrire delle condizioni un pochino più interessanti alla controparte estera questo è un tema che secondo me sta molto a fuori anche a sapere quindi poi se avrà un commento lo ascolterò molto molto volentieri stessa cosa termini di resa anche qui vabbè è inutile dire quante volte abbiamo sentito dire all'azienda no resa ex worse perché io faccio lavoro preparo il prodotto e poi te lo vieni a prendere la responsabilità è solo tua anche questo vale il ragionamento di prima quanto più io invece riesco a offrire come servizio il fatto di portarti il prodotto di gestire l'assicurazione il trasporto eccetera e quanto più sto dando un servizio di valore alla controparte e questo può essere utile anche in chiave negoziale quindi lo reputo un elemento di differenziazione modello di business anche qui la modalità con cui posso rendere disponibile sul mercato il mio servizio il mio prodotto sono molteplici oggi il mondo online soprattutto ci dà degli esempi degli spunti che si possono seguire anche in altri ambiti penso la ipotesi la possibilità di noleggiare il prodotto anziché venderlo piuttosto che la possibilità di fare degli abbonamenti servizi in abbonamento che quindi hanno un rinnovo ricorrente eccetera eccetera anche questo potrebbe ovviamente varia da settore a settore ma essere un modo per avvicinarsi alla controparte offrendo un qualcosa che possa essere ai suoi occhi più flessibile e più interessante questi sono i concetti che volevo condividere con voi spero di essere stato nei tempi e di essere stato sufficientemente chiaro chiudo l'ultima slide con i miei contatti ci tengo concedetemelo un piccolo momento di pubblicità nel senso che proprio in questi giorni è uscito il mio libro la via dell'export al cui interno tratto anche questo tema della differenziazione quindi mi faceva piacere condividerlo con voi per la prima volta e all'interno di questo libro c'è anche un approfondimento molto molto interessante proprio di Lucilla Rizzini perciò se volete scegliere il libro non fatelo per me che vi ho già annoiato abbastanza ma fatelo per l'intervento di Lucilla a cui a questo punto io cederei la parola a meno che Saverio debba fare lui il collegamento vi ringrazio e resto qui ovviamente per commenti e discussione successiva grazie grazie Michael no solamente un momento di pausa grazie mille Grazie a tutti.